Il mio lavoro può sembrare un lavoro come altri. Inizio la giornata, svolgo il mio dovere e torno a casa. Attendo il domani. Ma non è così. Dietro c'è coraggio, dedizione, umanità. Il mio lavoro è nutrito da pura passione. Va oltre la normalità. Per questo, e solo per questo, si può definire arte.